I just wanted Il resto nella casa, succede davvero di tutto e Barbara Dunso avrà molto di cui parlare con il pubblico di Domenica Live. Nelle ultime ore in casa infatti è successo ancora di tutto. C'è stata una litigata furiosa tra Luigi Favoloso e Danilo. L'ex fidanzato di Nina Morick, e gli altri hanno fatto piangere Aida Nizza. La conduttrice ha postato sui social dei video dalla diretta live del GF e immaginiamo che oggi si parlerà anche di questo a Domenica Live. . Stando alle ultime news, e alle anticipazioni della puntata di oggi di Domenica Live, nella parte dedicata a Grande Fratello 15 dovrebbero esserci in studio sia Patrizia Bonetti, che non ha partecipato a Verissimo, e che quindi dovrebbe essere in esclusiva a Domenica Live, e poi by Adam, il concorrente espulso dalla casa del Grande Fratello dopo gli atti di bullismo, e di violenza contro Aida Nizza. . In merito alla presenza di Patrizia, si potrebbe pensare che la ex Jeffina potrebbe parlare di quello che è successo in casa tra lei, e Luigi ma anche di quello che è stato il suo passato. . La bella Patrizia infatti ha avuto diversi fidanzati conosciuti dei quali si potrebbe parlare oggi a Domenica Live. . . Domenica Live Anticipazioni e News 6 maggio 2018. Tutti gli ospiti della puntata di oggi Paola Di Benedetto, potrebbe essere una delle ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi. . A quanto pare la sua storia con Francesco Monte è finita tanto che la ragazza starebbe cercando casa insieme a Rosa Perrotta a Milano, per vari impegni di lavoro. . Non solo, da Verissimo sono arrivate anche altre indiscrezioni. Paola potrebbe aver perso la testa per Marco Ferri. È davvero possibile? Lei dai social ha risposto con queste parole. . Che cosa avrà voluto dire la bella a Paola Di Benedetto? Non vi è dato saperlo ma visto che tra lei, e Barbara Dunso c'è un bel rapporto, potremmo vederla a Domenica Live. . Vale lo stesso per Marco Ferri, che potrebbe essere tra i protagonisti della puntata di Domenica Live in onda oggi su Canale 5. . . Appuntamento quindi alle 14 su Canale 5 per scoprire tutti i dettagli sulla puntata di Domenica Live e di oggi con Barbara Dunso e i suoi ospiti. . Stampa. .